Abbiamo fatto un passo in avanti notevole, la squadra sta incominciando a capire cosa vuole l'allenatore, quindi è un buon segnale. Però purtroppo questa è una partita che ha dato da vincere perché l'abbiamo dimostrato e perché era meritata. Un punto al porterone potrebbe andare bene, ma al Pescara certamente no. Assolutamente no, non nascondiamoci, noi dovevamo vincere la partita, abbiamo fatto di tutto per vincerla, si è visto. La squadra ha avuto anche la qualità per vincere la partita, due legni. Il primo tempo comunque c'è stata un'azione importante, quella di Maestro, che è riuscito a tirare in porta. Il secondo tempo c'è stato solo un monologo della squadra che ha fatto veramente bene. Grassadoni le sta davvero provando tutto, tutto il tecnico oggi ha anche cambiato sistema di gioco, presentando proprio Maestro insieme a Odgaard lì davanti e Galano. Sì, in fase di possesso era un 4-3-3 con due giocatori esterni larghi. In fase di possesso dovevamo abbassare un pochettino Valdifiori nei due difensori centrali, però sì dall'inizio abbiamo capito che il loro tre quarti non era molto aggressivo, quindi si poteva rimanere nelle posizioni iniziali. C'è il rammarico, però dobbiamo essere fiduciosi perché se continuiamo a produrre questo ammolo di gioco e questo miglioramento partito dopo partita, vinciamo le partite. Purtroppo però la classifica non può aspettare, non siete stati premiati oggi. All'Orizzonte subito c'è questa gara, manco a dirlo, da vincere martedì in casa contro l'Ascoli. Ho detto dall'inizio che nelle partite dobbiamo solo vincere, quindi non nascondiamoci dietro ad altre soluzioni. Anche con l'Ascoli è una partita da cercare di vincere. Ci proveremo con tutte le forze, recupereriamo qualche giocatore in questo momento che sta giocando meno, quindi ha un po' di forze in più. È un rammarico perché ci poteva dare veramente uno slangio notevole questa vittoria. Dal punto di vista delle individualità abbiamo visto che ad esempio Macin è entrato in corso d'opera e è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua. Non so se forse sono un po' troppo severo, com'è la vista a Bocchetti? No, no, assolutamente. Chi subentra in una partita comunque già rodata è normale che fa un po' più fatica, ma Macin ha fatto forse un po' di fatica in più. All'ielo tecnico i primi cinque minuti da quando è entrato, poi dopo si è vista la qualità del ragazzo che ha prodotto anche due assist, quindi si pallaggiava bene anche con lui, grazie a lui. Quindi Macin deve essere un valore aggiunto, è un valore aggiunto di questa squadra, soprattutto a livello tecnico. È normale che subentrando si faccia un po' più fatica di quello che ha giocato quasi tutta la partita. Quando Galano, rispetto a quanto fatto nel primo tempo, ha giocato nel secondo un po' più vicino alla porta è stato sicuramente più pericoloso, è d'accordo su questo? Ma il primo tempo l'abbiamo servito veramente poco, quindi non è colpa del ragazzo, ma perché l'abbiamo servito poco, abbiamo giocato soprattutto su Maestro, che era quella fascia un pochettino più libera. Però la squadra incomincia a palleggiare già da dietro, con un palleggio fluido, quindi stiamo migliorando. Non basta, dobbiamo fare qualcosa in più perché non basta. In sede di commento qualcuno si è un po' sorpreso della sostituzione di Maestro? Beh, non lo so, adesso queste cose tecniche bisogna domandarle al Miss, quindi su questa cosa non posso rispondere. L'ultima Bocchetti, che cosa rimane dopo questa partita, oltre a una buona prestazione? Eh, siamo veramente dei grandissimi con quello che la squadra può fare, quella squadra non ha fatto fino in questo momento qua, perché se questi ragazzi in questo momento qua hanno delle qualità e si vede, non ho capito perché nel corso dell'anno non siamo riusciti ad avere questa continuità. Quindi rammarico doppio, triplo? Rammarico doppio, sì. Rammarico doppio, sì.